Va bene, dove andiamo? Andiamo a Imperia, Sandra. Andiamo a Imperia, sì sì. Ciao. Ciao Sandra. Ciao a te, ciao a Fabio, ciao a Giancarlo. Ciao a tutti e due. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutta alla grande. Stavo cucinando e quindi mi è venuto in mente che io senza cucinare, senza musica non è possibile e di solito gli CD si sono la mia passione sprenata e per cui quando cucino metto quelli e via di Thunderfuck. Cosa cucini con gli ACD? Oggi sto cucinando una torta salata di zucca e quindi mi fa compagnia gli ACD, sì, perché voi e poi anche gli ACD, sì, perché sono nel mio cuore da sempre. Cosa stai dicendo Fabio prima? No, che il connubio è perfetto, musica e cucina, musica e cibo, secondo me sono proprio due cose che vanno di pari passi a braccio. Gli ACD si non li vedo proprio con la minestrina. No, no, gli ACD si stanno bene con tutto, fidati, perché anche la minestrina con il formaggino è molto rock. Non c'è la minestrina con il formaggino, ci sta pure. Allora, è il momento di annunciare la canzone e di farti diventare disgioche ufficiale di Radio Capital, prego. Ok, allora, Thunderfuck degli ACD, sì. Thunderfuck, ma che disco, inizio anni novanta, per questi ragazzacci chiamati ACD, sì, grazie a Sandra di Imperia per averci fatto saltare. Mai ha fatto il video, non so se lo pubblicherà, ma è talmente bello, guarda. Altro che minestrina, ascoltiamo insieme le ultime notizie poi ancora qui su Radio Capital. Grazie a tutti.